Noi chiediamo che il popolo di questo paese possa scegliere liberamente da chi essere governati. È inaccettabile che si riproponga l'ennesimo governo non scelto dai cittadini, che sarebbe semplicemente l'ennesimo servo e schiavo delle imposizioni di Bruxelles. Servo è un governo forte, servo è un governo che possa portare avanti una politica a favore dei cittadini e questo lo si può avere esclusivamente attraverso il voto popolare. Alternative non ci sono. Abbiamo già avuto un forte deficit di democrazia nel paese con gli ultimi tre governi, non scelti dalla gente, ma scelti da Bruxelles o dalla Secretaria del Partito Democratico. Adesso torniamo al voto, torniamo ad essere un paese normale dove a scegliere e a decidere siano i cittadini.